Come una famiglia Come una famiglia nel nome del Signore, nel dì della distretta uniti rimarremo, legati nel vincolo d'amore, l'un l'altro ogni dì ci sosterremo. Confidando nella forza del Signore, come un solo uomo ci prenderemo per mano, per sempre a Lui consacreremo il cuore con sincerità e con timor cristiano. Così l'amore vero insieme gusteremo, stretti e uniti nell'amor fraterno, ogni giorno l'un per l'altro pregheremo, elevando canti di lode al Dio Eterno. Sotto l'unzione dello Spirito Santo, canteremo l'odi alla Sua immensa gloria, al nostro Dio eleveremo un nuovo canto e con gioia celebreremo la Sua vittoria. Ringraziamo il nostro Dio e Padre Eterno, che per Sua grazia a Lui apparteniamo, dimorando nell'amor fraterno, ogni dì la nostra fete stimoniamo. Ringraziamolo anche per gli anziani, che sono per noi un esempio di umiltà. Essi ci esortano da buon cristiani a vivere una vita in santità. Padre nostro, tienici uniti nei giorni senza sole, quando d'intorno ci avvolgerà la tempesta e il nostro cuor sospire e l'alma duole, se rimarremo uniti sarà di nuovo festa. Amen Grazie a tutti Grazie a tutti